Provincia di Salerno e Lega Ambiente Campania ancora insieme per la seconda edizione di Think Renewable, il progetto didattico per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a tematiche quali la tutela dell'ambiente, la carenza idrica e il risparmio energetico. Per l'edizione 2024, presentata presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino, gli studenti sono chiamati a sviluppare, elaborati su due temi critici, la tua idea rinnovabile e rispetta l'acqua, rispetta la vita, un viaggio alla scoperta di cosa si può fare insieme per il bene del nostro pianeta, una grande opportunità per i giovani per esprimere le proprie idee ed essere sempre più responsabili e consapevoli. Provare a costruire consapevolezza in una generazione che di consapevolezza sulle tematiche ambientali già ne ha tanta ma che anche soffre quelli che sono gli impatti degli eventi estremi e quindi si diffondono le paure, ad esempio come l'ecoanzia. Provare invece a conoscere i problemi come quelli che possono avere il nostro pianeta e il nostro territorio come la mancanza dell'acqua e per prevenire chiaramente bisogna mettere in campo delle idee importanti a partire dai nostri stili di vita. Quindi è molto importante il confronto in campagna sull'energia rinnovabile, sulla diffusione di eolico, fotovoltaico, delle nuove comunità energetiche. Si sta andando avanti in maniera spedita un primato in tutta Italia ma la sfida climatica si fa sentire sempre più forte.